Aspetta dai. Siete in onda, siete in onda. C'è tanto che li prende. Nenna Rosa, la chicca, tocchi. La chicca, siamo qua. Sto bastardo che ci fa preoccupare sto bastardo. Ci hai fatto stare bene. C'è da preoccuparsi. Ma c'è un bel colorito Leo, sembriamo il Simson. Sì dai. Tranquillizza gli ascoltatori di Dica. Ragazzi, noi stiamo qua, non moriremo mai. Se Leone si riprende bene, gli abbiamo promesso che diventa direttore artistico dello zoo. Va bene? Un passo per voi. Ciao, salutiamo. Ciao a tutti quanti. E chiudiamo con un bel Adà.